Allora, Sinnera Olimpiadi ha dichiarato giustamente che per quanto riguarda l'argomento porta bandiera forse è meglio atleti che vivono di discipline diciamo più olimpiche o comunque che fanno solo quello, che dedicano la loro attività a discipline olimpiche, puramente olimpiche. E vabbè, la storia delle olimpiadi, gli sport prettamente professionistici non dovrebbero partecipare ma adesso va benissimo anche il tennis, non c'è problema, anzi speriamo. Sinner, io l'ho esaltato a 360 gradi, quello che rappresenta, le scelte che ha fatto, è un esempio per tutti, tutti stanno andando sul carro di Sinner, chiunque, adesso c'è Sinner ovunque. Sinner, Rolex, Gucci, Fastweb, Nike, tornei, milioni e milioni e milioni in banca. Allora, impostiamo così il discorso perché è scivolosissimo, è scivolosissimo e vorrei spiegarmi al meglio. Sinner, gliel'hanno chiesto, comunque non paga le tasse in Italia o comunque non contribuisce, quello che facciamo noi tutti i mesi, lavoratori dipendenti, pensionati. Non dà soldi all'Italia in base a quello che lui guadagna e lui è italiano per poter contribuire alla spesa pubblica. Non risolverà lui il problema del debito pubblico però comunque lui è italiano, ha un lavoro, guadagna tantissimo e le tasse le paga Monte Carlo. È giusto che vada alle Olimpiadi a rappresentare l'Italia o potrebbe andarci a rappresentare Monte Carlo, visto che contribuisce alle casse dello Stato del Principato di Monaco? Ok. È un pensiero che ha espresso anche Cazzullo qualche giorno fa e che in qualche modo condivido, nel senso che con tutte le centinaia di milioni che gli entreranno nei prossimi anni a Sinner, per i contratti soprattutto degli sponsor e per tutto quello che vincerà, perché andare a Monte Carlo? Cioè ci fanno tutti o lo fanno tutti? Però le Olimpiadi, non so, non paga le tasse in Italia e questo è un dato di fatto. Per cui è giusto che vada in Italia a rappresentare l'Italia, naturalmente portabandiera, lui ha già detto di no. E' un argomento che cosa ne pensate voi? Se ci pensiamo bene è abbastanza fastidioso che noi sul nostro stipendio, che guadagniamo un tot, siamo sul 40% che ci viene tolto tutti i mesi, quindi sapendo che lo diamo perché le tasse, anche se in Italia è un po' la cosa scappata di mano, ne se ne pagano troppe, soprattutto i lavoratori dipendenti. Quindi cosa servono le tasse per la sicurezza, per la sanità, per l'istruzione e per tutta la spesa pubblica? E Sinner non contribuisce a questo ed è italiano. Va bene, ciao. Detto la mia, argomento scivolosissimo, secondo me sarebbe un paese serio, un paese serio non salirebbe sul carro del vincitore che c'è la residenza a Monte Carlo, ma gli direbbe va bene, felicissimi di tutti i tuoi successi, ma le Olimpiadi falle per il Principato di Monaco. che rappresenta lo stato a cui dai le tue tasse, a cui paghi le tasse.